Cari fratelli e sorelle, recitiamo insieme la novena della medaglia miracolosa, in attesa della festa del 27 novembre. La devozione alla Madonna della medaglia miracolosa è una tradizione della Chiesa che porta benefici nel cuore, nella famiglia, in tutta la società. Benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. La preghiera della novena alla Madonna della medaglia miracolosa. Oggi è il quinto giorno. Prepariamoci con alcuni secondi di raccoglimento prima di iniziare e chiediamo una grazia a Maria. Recitiamo la novena alla Madonna della medaglia miracolosa in comunione con i fratelli e le sorelle del santuario della Vergine del Silenzio ad Avezzano in Abruzzo ed anche con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Vergine Immacolata della medaglia miracolosa, che mossa a pietà delle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie, muoviti a pietà della presente nostra necessità, consola la nostra afflizione e concedici le grazie che ti domandiamo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve, a te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della medaglia miracolosa, che quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono? Ci hai portato la tua medaglia affinché fosse difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri? Ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della medaglia miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata. Ebbene, o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo per la tua immacolata concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria, o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Recitiamo tre gloria insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vergine Santa della Medaglia Miracolosa, prega per noi. Vergine Santa della Medaglia Miracolosa, prega per noi. Vergine Santa della Medaglia Miracolosa, prega per noi. Amen, amen, amen. Alleluia. Concludiamo con questa invocazione. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Grazie cari fratelli e sorelle per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera. Continuate a coltivare la vostra fede e da pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e l'intercessione del cielo per le nostre necessità non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza e che necessitano di guarigione fisica e spirituale. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica e la Madonna della medaglia miracolosa ci conceda la grazia che le chiediamo. A domani!